la storia che vedrete avviene in un periodo di tempo misterioso in un'era sconosciuta di cui nessuno ha mai sentito parlare immerso nella foresta oltre un'imponente catena montuosa situata a migliaia di chilometri di distanza dalla vita caotica delle città un ragazzino vive a contatto con la natura il suo nome è Goku iscriviti al nostro canale Grazie a tutti 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 Grazie a tutti